a scuola faccio fare sempre delle esercitazioni in pellicola 35 mm qualche volta anche in 16 perché vorrei che gli allievi ragazzi imparassero a vedere a guardare la luce con loro occhi senza il filtro del monitor di controllo quindi abituarsi proprio a vedere secondo me è molto formativo per me è importante che i ragazzi vengono in questo campus perché hanno la possibilità di lavorare con studenti di scuole di varie parti del mondo quindi nascono evidentemente dei confronti dei modi di lavorare che sono sicuramente differenti le loro scuole sono diverse dalle nostre e poi questo poter fare insieme dei cortometraggi insomma mi sembra estremamente estremamente importante grazie grazie grazie